Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto, Fiorentino e il Bivio per la variante di Valico. In direzione Roma, l'area di servizio di Chianti Ovest è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 73 Senese e Aretina, in direzione Sansepolcro, chiuso il tratto dal chilometro 150 al 163. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato all'altezza del chilometro 26 nel comune di Figline Incisa. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!